Bene a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, io sono Manu, amici miei oggi siamo qui ritornati sulla serie di The Legend of Zelda Breath of the Wild Ragazzi siamo qui con il 42esimo episodio, nello scorso episodio siamo finalmente arrivati qui in questo villaggio Vappesca Abbiamo fatto tra cui questo sacrario, il sacrario di Yao Mahamayo, comunque a parte io che non so legge però ragazzi vi chiedo scusa perché è da un bel po' che non registro se devo dirvi la verità Cioè voi i video li vedete tutti un giorno dopo l'altro, al massimo se capita salta un giorno ma perché non riesco a editarlo in tempo Comunque fatto sta, amici miei, adesso anzi in questo video andremo a fare un botto di roba Ed se non so parlare è perché non registro da molto, non sono abituato e con la scuola mi sta uccidendo proprio il cervello Se vi do dire la verità, sì, io lo dico in questo modo Già in terzo, già solo terzo superiore, già mi stanno veramente riempendo di compiti, veramente tantissimo Se vedete video che escono sempre un giorno dopo l'altro è perché me li anticipo Anche perché altrimenti non potrei portarveli sul canale Comunque, allora, dobbiamo metterci la tuta antifreddo, tra cui anche gli scarponi Allora, vediamo un po', devo mettermi questo, benissimo Perché sono qui nella zona innevata? Perché voglio andare al sacrario dove ho messo la puntina rossa Ebbene sì, lì c'è un sacrario Quest'oggi andremo a fare un botto di cose Tra cui, non pensate che io me ne sia dimenticato, dobbiamo andare qui Infatti qui ragazzi c'è proprio l'arena dove c'era da combattere contro il Lynel Vi ricordate dove c'è l'arena, quel colosseo, chiamiamolo così Ebbene sì ragazzi, oggi andremo lì e vediamo se sono ancora capace di combattere Anche perché, fidatevi, troveremo un botto di nemici Quindi dobbiamo stare molto attenti Mi ha preso la freccia quel marrano Comunque, ragazzi, dobbiamo andare praticamente tutto dritto Credo che prima si fosse intravisto il sacrario Allora, devo andare solamente dritto Quindi ci ribecchiamo lì Ed eccoci qui, c'è un sacrario nelle vicinanze Avevo proprio ragione Ma facciamo un attimo attenzione Perché qui ci sono palle di neve che rotolano Comunque ragazzi, il mio obiettivo di questa serie Era quello Che cosa fa questo? C'è una ghianda Ah, e io in teoria la dovrei colpire Vediamo se, ma se tipo io ci lanciassi una bomba Non lo so Vabbè, lasciamo perdere Dovete colpire praticamente la ghianda con una freccia Allora, stavo dicendo L'obiettivo di questa serie Il mio obiettivo era proprio quello di arrivare almeno a un totale Di 20 cuori E ora che li sto contando Siamo proprio a 20 Quindi È giusto che io prenda altri sacrari Lo farò Sì, lo farò Anche perché più sacrari vi mostro nella mappa Meglio è Infatti qui ce n'è proprio un altro Da queste zone ce ne dovrebbero essere altri due Ma non ve li moscerò Perché a parere mio è un po' inutile Comunque siamo qui al sacrario E iniziamo subito Allora, eccoci qua Allora, vediamo un po' Vedo la forza della spinta Allora, già vedo del fuoco Quindi presumo che io debba utilizzare Oddio La torcia Molto bene Dopo aver fatto questo ho concluso qualcosa Sì, ok C'era un passaggio segreto da questa parte Allora, io devo andare per di qua Vedo un guardiano Allora, quindi Attacco in salto Era da molto che non lo dicevo Comunque Devo Utilizzare qui il calamitron Molto bene Facendo questo Romperà quegli oggetti Benissimo Allora Io credo che questo blocco Di ferro Lo dovrò riutilizzare Lei vada via Aia Mannaggia a lei Allora Mi ricordo di averlo fatto questo sacrario Molto tempo fa Ma qui c'è un altro schigno Che io posso prendere Ovvero Così Molto bene E andiamo a vedere subito cosa ci dà Allora Ci dà un trivellone Che fa 24 Infatti ha anche un super attacco Ragazzi Sì lo prendo Ma lo butto Non lo posso tenere Allora ragazzuoli mie Non mi ricordo assolutamente Cosa io debba fare Per completare questo sacrario Ma Sto Andando A occhio Quindi Vediamo Non lo so Allora Aia Povero link Allora ragazzi Io ipotizzo Che devo utilizzare Una freccia di fuoco Ma dove la prendo La freccia di fuoco Anche perché non me lo sto ricordando Vabbè Facciamo così E risolviamo tutti i nostri problemi Quindi come potete vedere Prenderanno a fuoco E una volta Che si distruggeranno Perché infatti I barili sono fatti di legno Giusto Ecco 1 e 2 E facendo questo Ok Abbiamo fatto questo Poi può darsi che Andando avanti Forse mi accorgerò Cosa si doveva fare Di preciso Comunque Dobbiamo sbricarsi Piccola chiave Eccola qua Adesso Andiamo da questa parte Molto bene Salendo per di qua Qui infatti Non abbiamo niente Di particolare Comunque Vabbè Lasciamo perdere Il sacrario è stato completato Si Con tutti gli scrigni Nice Quindi ragazzi Ci becchiamo fuori Allora ragazzi Sono qui Vicino allo stallaggio Della piana Esattamente dove c'era Il Quel Sacrario lì Che vedete Lì si intravede Il nostro Vanaboris Comunque Noi dobbiamo andare Quest'oggi Da questa parte Infatti L'ho indicato Esattamente Con il segno Del teschio Infatti è proprio lì Questo colosseo Cosa si deve fare Da In questo punto Devo salire Devo fare Ah E' un altro Gioco De queste ghiande Ah no Non sono proprio Ghiande Sono delle Anfore Dei piccoli Vasetti E noi praticamente Li dobbiamo Rendere Con la freccia In questo modo Vabbè Ma non lo voglio fare Anche perché Non mi interessano più I semi Corrogo Comunque A voi Se vi serve Prego Allora Dobbiamo andare Per di qua Innanzitutto Dovete essere Molto equipaggiati Ragazzi Fate Molta Attenzione Io metterò L'arma Più forte Che ho Attualmente Infatti L'armatura Bestiale L'armatura Lo spadone Bestiale Divino Perché Mi servirà Un botto Voi se volete Potete potenziarvi Anche l'armatura Da barbaro Per fare più Danno Ma come vi ho Sempre detto Io non Opto Per L'attacco Ma per lo più Per la difesa Poi come attacco Ci penseranno Le nostre armi Ok Adesso Ragazzi Lo utilizzo Un altro Turbine Di rivali Sì Va bene Allora Facendo questo Molto bene Possiamo andare Per di qua Allora Con tutti questi Materiali Dimostro Che prenderò Mi andrò Anche a prendere Le maschere Da kilton Quindi State tranquilli Non me ne sono Dimenticato Siamo qui Nell'arena Allora Link Scendi Ovviamente Ragazzi Io utilizzerò Il calamitron Pazienza Sì Se mi vuoi Vedere Guardami Ok Uno Ha Una Spada Di fuoco Boom Ok Perché abbiamo fatto un botto di danno anche ai nemici circostanti Comunque Allora In teoria con quest'arma Gioco da ragazzi Si mi sta facendo male Come potete vedere mi toglie solo un cuore Perché ho l'armatura più forte Infatti Ve l'ho già detto Non opto per l'attacco Quando fa quest'attacco Vi dovete allontanare subito Ma Grazie Alla Pura di Urbosa Sono stato tranquillissimo Spadano e Versiale Divino Sta per rompersi E si è rotto Eh ne abbiamo fatto di danno però Uh attenzione E allora L'abbiamo già distrutto In pratica E vabbè Comunque Direi di utilizzare questo Facciamo attenzione però Allora Se mi entra qualche Mamma mia Ecco vabbè Vabbè pazienza Andiamo così Se mi Stavo per dire Se mi entrasse una schivata perfetta Sarei a cavallo Boom Ok Nice 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 Eril Un linella d'argento Quindi è molto più forte di quello bianco Eh Va bene Va bene Lo abbiamo già eliminato Comunque Spada del fuoco Va bene Topazio Zaffiro Materialismo Vari Scudo E questo arco Sono praticamente Overpowered Quindi io butto questo E mi prendo questo Perché questo spara per 3 E non è male E questo Lo butto E mi prendo questo scudo Che fa 62 Questo qui Da brezza Lo tengo Vabbè Poi lo Lo poserò Poi posso dire Lo poserò Nella casa di Link Perché non è proprio Un Un'arma d'attacco Un'arma Che utilizzerò Che utilizzerò Allora Questa spada Ah no Questa era la sua spada Non penso era questa Non era questa 24 Vabbè Non importa La cosa più importante Che aveva Era soltanto Lo scudo Comunque Comunque Da queste parti Troverete Molti mob Che vi danno Roba buona Ragazzi Roba buona Qui infatti abbiamo Un blandistocco Del fuoco Che fa 24 Stesso come questa spada Ma la posso buttare Mi prendo questo blandistocco E ci facciamo adesso Un bel giretto In questo Colosseo Lo chiamerò così Perché sono in italiano Comunque Allora Non vorrei equipaggiare Questi scudi Perché sono troppo Forti Metto questo Perché lo voglio consumare Ok Come potete vedere Ci sono tanti nemici Che hanno Armi E scudi Molto particolari Ragazzi Molto particolari Questo c'ha Addirittura Un altro scudo reale Non è per niente male Io ovviamente Farò subito A cambio Fammelo buttare Link Molto bene Questa Fa sempre lo stesso Quindi Possiamo andare Per di qua Allora Ci facciamo proprio Il giro di tutta l'arena Questo addirittura Ha uno spadone Oh no L'ho buttato giù Questo addirittura Stavo per dire Ha uno spadone Del fuoco Che non è per niente male Ottimo E questo spadone Fa un totale Di 34 Non è male Non è male Ragazzi Non è assolutamente male Comunque Turbine di rivali Perché non ho voglia Di rifarmi il giro E cosa potete vedere Qui non c'è niente Di particolare È un'arena Uh Altro scudo Attenzione Ci stiamo facendo Veramente La collezione Degli scudi Reali Però Non voglio buttare Quello da cavaliere Perché Uno Voglio tenermelo Come ricordo Ah sì Ha il potere Lui infatti Lui infatti Ha la spada Del ghiaccio Il vostro problema È proprio quello Che cadrete giù Allora Lei Uno Due E tre Perfetto Ragazzi Lui Aveva soltanto Una spada Di Di ghiaccio Quindi niente di particolare Adesso Vi chiedo Veni Cercherò di non buttarli giù Anche perché Sarebbe troppo semplice Invece questo ragazzi Ha un bandistocco Del Bandistocco Del Non so parlare Del ghiaccio Va bene Allora Va bene Vuoi provare Ok Tanto Lo spadone Non mi interessa Ok Prendiamo questo Del ghiaccio Allora Vorrei Fare una foto Così Totalmente A caso Molto bene Questo l'ho fatto No Ok Quindi lo prendiamo Tranquillamente Allora Dopo averlo preso Ragazzi Possiamo salire Per di qua Allora E' strano Perché io Ricordo Che Ricordo Di nemici Molto più forti Ok Questo qua Ragazzi Se vedete Che è già morto E' perché Lo abbiamo già eliminato Con la furia Di urbosa Va bene Spadone del ghiaccio Che non è per niente male Lo prendiamo subito Comunque Va bene Utilizziamo un po' Di spade Reali Perché tanto Ne abbiamo tantissime Oh Finalmente Qualche avversario Molto più potente Un Bublin Bublin Grublin Non lo mi ricordo mai Questo invece ha Armi elettriche Allora Lei Guarda Guarda Come si difende Ha uno scudo reale Estremamente figo E anche una spada elettrica Ho qualcosa di elettrico Non ho assolutamente Niente di elettrico Sai che cosa Sai cosa ti dico Via E prenderemo Lungagittata Ah Ora capisco Cosa significa Lungagittata Che quando la lanciate Vola In punti Veramente Lontanissimi E ragazzi Ovviamente Credo che avrete Già ipotizzato Se questa Aveva una spada Elettrica Questo Avrà Uno spadone Elettrico Portiamo subito Così perde L'arma E L'altro Dovrebbe avere Un bandistocco Elettrico Che noi Non abbiamo mai avuto Allora Lei Vada via Via Ah Neanche lo spadone Nelettrico Aviamo mai avuto Va bene Infatti Perché no Ci voglio fare Una foto Giusto per Ma Allora Sbrighiamoci Ok Ok I materiali da mostro Mi servono Perché Mi posso Li posso Convertire in Moss Comunque Questo posto È molto Figo Perché Potete Farmare Un botto Ripeto Un botto Di Armi Particolari Soprattutto Armi Elettiche Di fuoco E di ghiaccio Potete anche Combattere Contro Un valorosissimo Linel Che vi dà Un botto Di roba Poi Soprattutto In un'arena Molto particolare Comunque Questo spadone Fa 32 E non è per niente male Ma qui abbiamo Una forca Elettrica Forca elettrica Si chiama Non lo ricordavo Ragazzi Perdonate Comunque Forca elettrica Che fa 32 Io ovviamente Era solo per farvela vedere Perché c'erano i punti interrogativi Comunque Abbiamo liberato la zona E Praticamente Tutta Completa Abbiamo sprecato Praticamente tutto Solo Mifa Non abbiamo utilizzato Comunque Allora Se non sbaglio Da questa parte Dovrebbe esserci un corovo Se non erro Ah ragazzuoli Se non erro Link Stai Attento Perché Potresti cadere Io l'ho detto Ci rimbettiamo Ci rimbettiamo sotto Allora ragazzi Come potete vedere Al piano Superiore 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 Lo chiameremo così Non c'è assolutamente Nulla Se saliamo E se saliamo Qui su A parte che ho appena Visto uno scrigno Allora ragazzi Io Ricordavo di un corovo Se devo Devo dirvi la verità E infatti Eccolo qua Comunque prima Ci ribecchiamo Su bellissimo scrigno Ci da bombe Per cifra E c'è bomba Per cinque E adesso Voglio fare Questo Ewell Ed ecco a noi Il bellissimo Corovo Dopo aver fatto questo Scusami Voglio Planare Andare Da questa parte Già avete visto Sicuramente Che lì C'è un altro Sacrario Allora Ragazzi L'arena È stata Anientata E demolita Ponte Acqua Ok Non capisco Perché si chiami Così Comunque Sì ragazzi Nel frattempo Quest'oggi Andremo Anche Alla torre Così otterremo L'ultima mappa Di gioco Allora Direi di planare Tranquillamente Da questa parte Lì si vede Un corovo E vabbè Perché no Andiamo a farlo Anche se Forse già c'ero passato Negli scorsi episodi Non mi sto ricordando Ragazzi Non mi sto ricordando Allora Ci manca una pietra Dove è questa pietra? Dovrebbe essere Da questa parte Ma non c'è Allora Che sia tipo Da questa parte Verso il Sacrario Ovvero In queste rovine Non ne ho una minima idea Guys Ho fatto i soldi Su forza C'è gente? Sì c'è gente C'è gente? Comunque Ero alla ricerca Della pietra Che non sto vedendo E va bene Possiamo fare così Abbiamo risolto Tutti i problemi Perfetto Salve Non andrò al tappeto Così facilmente Molto bene E voi siete stati simpati Che non ci rivali Mi servivi Comunque Niente ragazzi Lasciamo perdere la pietra Andiamo tranquillamente Qui che c'è un bellissimo Sacrario Vi spoilerò Già subito Che forse Andremo a fare Un Sacrario Dove dovremmo Di nuovo utilizzare Il meccanismo Ovvero il costo Che si deve fare Con il Joy-Con Anche se Ragazzi Io ho un controller Power A L'ho comprato Che è proprio Ufficializzato Dalla Nintendo Switch E robe varie Voi dite che funzionerà Non lo so Proveremo Eccoci qua Allora Prova di Prova di forza Ah ho capito Va bene Allora Vediamo un po' Dobbiamo fare Posso utilizzare Questo No Ah si Posso fare così Posso fare Una roba del genere Subito dopo Allora In teoria Dovremmo Eh si Ho capito Che l'hai aperta Ma Di poco E niente Allora Forse devo fare Carica Mamma mia Allora Qui Ovviamente Se siete in difficoltà Ragazzi Potete utilizzare Il Calamitron Quindi Vedete voi Allora Voi state Tutti calmi Un attimo Ora io posso andare Molto bene Dopo aver fatto Dopo aver fatto questo Io posso fare Un attimo Una roba del genere E poi Una Roba del genere Dopo aver fatto questo Mi devo spostare subito Ragazzi Facendo questo Attiverà la palla Giriamoci Ottimo Ragazzi Io Lo sento Piano Il 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 Gioco Forse È per colpa Delle mie Cuffie Spero che A voi A meno Si senta bene Comunque Lo lasciamo Questo E ci prendiamo Il La spadone Dell'intuizione Dell'intuizione Esatto Che fa cinquanta Questo spadone È molto forte È molto forte Comunque Andiamo Da questa parte Lo propagiamo subito Anzi È molto resistente Nice Vediamo cosa contiene Questo scrigno Una spada reale Fa trentesei E Prendete Ci armano Va bene Allora Cosa possiamo fare Questa fa trentesei Lunga eccitata Prendete Non serve a niente Lunga eccitata Abbiamo capito Cosa serve Solo per farla Lanciare più Lontano Questa è molto resistente Questa è Superiore A quella di prima Quindi Perché no La vedo dei barili Uno Due Fa cinquanta Ottimo Però ti dirò Io non voglio Sprecare le mie armi Quindi perché Non utilizzare questa È letteralmente Inutile Adesso Cosa devo fare Devo andare Da questa parte Allora Prima che le mie armi Spariscano Via E adesso Facciamo questo Ok Andiamo a vedere di qua Dobbiamo aprire questo Portone Oh cavolo Dovevo pensarci Ci ho pensato All'ultimo Chiedo scusa Chiedo scusa Oh no Vedo già il meccanismo Comunque Allora Dobbiamo andare Da questa parte Molto bene Adesso è il momento Della verità Vediamo se il mio Controller Della Nintendo Sizio Proprio ufficiale Posso essere utilizzato Vediamo Che bello No Perfetto Allora Devo prendere Joy Molto bene Allora Ho preso Joy Con Dobbiamo fare Una Roba del genere Molto bravo Manu Tirare Ok Allora Pian piano Si può fare Perfetto Dobbiamo dare Più colpi possibili Uno E No Facciamo resettare E Due Dobbiamo essere Molto più forti Allora Facciamo così Con calma sto qua Quello si resetta Giro Carico Via Mamma mia Adesso Ultimo Colpo Vediamo Cosa è appena successo Dettagli Dettagli Nice 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 Così Molto bene Ho ripreso il controller E qui abbiamo un bellissimo screen Vediamo Cosa ci droppa Un nucleo ancestrale Non è per niente male Ancora non abbiamo preso Tutti gli screen Comunque Dobbiamo andare Per di qua E adesso Dovremmo essere Al punta di prima Ovvero qui Vediamo 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 insieme Allora 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 Ok ho capito dove siamo Io devo fare Una roba del genere Ok Prima di fare questo Io devo fare Questo qui Vediamo se ci riesco alla prima Allora devo fare Ok ho failato In pratica questa palla scende Una volta fatta questo io attivo il blocco Attivo questo E si passa per di qua La porta Ci verrà aperta Link prende danno Così a caso E adesso Io devo nuovamente Utilizzare lo stasis Ma prima che si ricarichi Ricordo che qui c'è Uno screen segreto Dovrebbe dare un'altra arma Non mi ricordo Una rubia d'argento Non è per niente male Non è per niente male Va bene Va bene Va bene Va bene Allora E adesso È arrivato il momento Di fare Uno Adesso Link Più danni possibili Forza Boom Oh Finalmente E adesso Abbiamo Finalmente Completato Forse Abbiamo Ancora tutti gli screen Non sono stati aperti Ma se qui ce n'è uno Allora Devo fare Ok Allora Quindi devo fare Una roba del genere E così abbiamo finito Allora vabbè Abbiamo finito È semplice Solo che qui Ho visto lo screen L'ultimo screen Di quest'oggi Di questo sacrario Anzi Ci dà un diamante Ne vale assolutamente La pena Prenderlo Non è Non era per niente male Mi è divertito Molto fare Questo Questo sacrario E infatti Abbiamo anche preso Tutti I screen Ottimo Così Ci ribettiamo fuori Ragazzi Anche se Se non sbaglio Dovrei essere A 7 Barra 8 Emblemi del trionfo Vediamo un po' Siamo a 7 Perfetto Perfetto Ci ribettiamo fuori Ok ragazzi Ok ragazzi Eccoci qui fuori Dal sacrario Allora Io credo che quest'oggi Riuscirò ad arrivare Oltre I 8 Emblemi del trionfo Quindi Off camera Mi prenderò Altri 2 Cuoricini Arriverò Un totale Di 22 Cuori Che Se vi devo dire La verità Non è Per niente male Anzi Allora Mannaggia Sta piovendo E qui c'è La torre Vediamo un po' Vediamo un po' È pieno Di guardiani Infatti Con lo stasis Come potete vedere Riusciamo a vedere Tutti i guardiani Ma con la mia armatura Sto Tranquillo Super tranquillo Allora Vorrei Un attimo Salire qui su Mannaggia Il guardiano Mi ha visto Abbassate No Volevo Abbassarmi Però Ho sbagliato Tasto Allora Oh Pure Sliga Ci mancava Allora Lei Vada via Lei Attacco Insarto Vada via Adesso Master Sword Mi avete fatto arrabbiare Lei Adesso è il suo turno Prego Uno dopo l'altro Allora Boom Tanto ragazzi Come potete vedere Tutti i nemici Che c'erano Comprese questi guardiani Come potete vedere Mi hanno soltanto Tolto Solo tre cuori Guys Solo tre cuori Riesci ancora A camminare Attenzione Perché c'è anche L'altro guardiano Che ci sta Targettando Lei Vada via Perfetto Uno Ed Eliminato Come potete vedere Non serve assolutamente A niente Ragazzi Non serve assolutamente A niente L'armatura Ancestrale Perché Avendo già questa Ci danno Un botto Di roba Oh Mi piacciono Questi Che Li utilizzerò Per Perché ci ha preso In pieno Allora Ok 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 Tu mi stai Cominciando a dare Sui nervi Vado un attimo Qui dietro Siamo a 30 minuti Vorrei sbrigarmi Buon Bonsoir Eccoli qua Perfetto Sì 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 Vai Sono proprio qui Dai Uno Due Tre Quattro Cinque L'ho riflettuto E l'ho distrutto Nice Mamma mia Mamma mia Che potenza Siamo veramente fortissimi Allora Adesso Torbine di Revali Andiamo sul sicuro E andiamo Finalmente A questa Dannatissima Torre Allora Infatti Torre della Piana Allora Questa non era calcolata Torbine di Revali Saliamo 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 Attenzione Raga Mannaggia A te Che devi sempre Disturbarmi Io Tranquillamente Me ne Faccio un altro Torbine di Revali Tanto Cosa Cosa sto vedendo Cosa No Link Non ci credo Do Do Dove sono Dove sono Dove sono Arrivato Ragazzi Credo che sia Difficilissimo Arrivare lì su Vabbè Comunque Pazienza Allora Finalmente Eccoci qua Nell'ultima Torre Di gioco Se volete Sheikah riconosciuta Attivazione Torre Sheikah Torre Sheikah Torre Sheikah Torre Sheikah Torre Sheikah Tutte le mappe sono state aggiunte Nice, nice, nice Ok, questa è tutta la mappa di Hyrule Infatti proprio qui abbiamo anche Hyrule centrale Comunque, comunque, questa la posso anche eliminare Era una puntina messa a casaccio Allora, vediamo un po' da qui cosa si intravede Innanzitutto, qui c'è un bellissimo... aspetta No, ho pingato l'albero, infatti No, mannaggia Volevo pingare, ecco, quel sacrario Esattamente Lì, vedi? Perfetto Ora è giusto, vedi? Eccolo lì, eccolo lì Comunque, vorrei eliminare un attimo questa Molto bene Allora, cosa abbiamo qui? Varie robe che direi di esplorare in seguito Per il momento ho già fatto tutto in teoria per questo video Cosa posso mostrarvi? Lì ci andremo poi Perché esattamente lì c'è proprio il nostro ultimo ricordo Beh, come posso dire? Andiamo a vedere Aspettate Vedete, c'è proprio questo ricordo qui Poi ovviamente questo ricordo si trova Alla castello di Ganon Castello di Hyrule, la stessa cosa Comunque Allora, nella piana di Hyrule dovrebbe esserci un punto in cui io Nel prossimo episodio voglio mostrarvelo Ma non sto vedendo dove Che sia qui? No, non è qui assolutamente Perché mi sto proprio confondendo Va bene ragazzi, in caso Lo cercherò con calma Camera e poi voglio mostrarvelo Voglio mostrarvelo assolutamente Per, soprattutto per i veterani Fidatevi, è una cosa bellissima da vedere Poi vediamo Può darsi che tipo me ne dimentico Spero di no Va bene ragazzi Va bene, va bene, va bene Siamo a 35 minuti Cosa fare? Direi di andarci a fare quel sacrario Quello sacrario che si trova esattamente Nel puntino blu dove abbiamo appena pingato Quindi, perché non farlo raga? Quella guardiana si mi ha vista Ma Ragazzi siete con la paravera Non abbiate paura Non vi farà assolutamente niente Ciucciù E ciucciù sono veramente molto comuni da queste parti Comunque vado tutto dritto per quel sacrario E poi ragazzi ci possiamo anche salutare qui Amici, dovremmo essere vicini al sacrario A quanto pare sì Lo avevo anche pingato male Ecco, si trova proprio da questa parte Allora Uh, aspetta, aspetta un attimino Aspetta un attimino Voglio mostrarvelo Qui c'è una roccia E c'è esattamente L'avete capito tutti Un bellissimo Korogu Molto bene Oh, mi hai trovato Siamo a 9 Quasi quasi Già che ci penso Off camera Vado ad ampliarmi Un ultimo spazio della borsa Eh, cosa amplierò? Non lo so assolutamente Però credo di Optare per le armi Allora, siamo qui Questo sacrario mi ritornerà molto utile Soprattutto se mi devo tippare qui per andare vicino al castello di Ganon Quindi, ragazzi Ultimo Sacrario di quest'oggi E abbiamo finito Eccoci qua Allora Prova di forza elementare Vabbè ragazzi Sarà una passeggiata Sarà una grande passeggiata Cioè Non È elementare Non mi metto neanche a curarmi Perché tanto questa vita Non ho neanche voglia Se vi devo dire la verità Di mangiare qualcosa Per recuperare questa stamina Credo che Farò fare tutto il lavoro a Mifa E poi aspetterò che si ricarica Quindi Sarò tranquillo Lei Vada via Cosa vuole fare? Due Via Attacco in salto Perfetto Questa arma è totalmente inutile Prendiamo più oggetti possibili E lì abbiamo finalmente Il nostro scrigno Ok Dopo aver fatto questo Possiamo andare per di qua E Arriverò a nove Dieci Forse anche un altro emblema del trionfo Cioè Nel senso Sicuramente Prenderò Tre cuori Prima di andare da Ganon Alla barda reale Wow Wow Esatto E a parte le armi reali E roba varia Esiste anche l'ala barda reale Ehm Ti dirò Ti dirò Questa katana fendivento La puoi utilizzare Questa è molto resistente Mmm Non lo so Cosa posso buttare? Super attacco Molto resistente Ragazzi Ragazzi C'è l'imbarazzo della scelta Non so assolutamente Cosa gettare Vabbè Pazienza Butto questa Anche se Questa è molto più debole Fa 26 Però Ha il colpo di grazia Ed è ottima Attenzione Ottimo Va bene Va bene Va bene Nessun problema Avrei potuto tenermela Andare a prendermi Un po' di spazio Mi avrei fatto Lo spazio per la borsa E poi l'avrei presa Però vabbè Pazienza Sti cazzi Comunque Siamo a otto Perfetto Usciamo dal sacral Amici miei Allora Come potete vedere Il mio inventario Ho preso La maschera Da Boblin Maschera da Grublin Maschera da Lizalfos E anche la maschera Da Linel Non è per niente male Sono veramente carinissime Guardate che figo Ovviamente Il nostro link Si metterà in bosa Dei vari Mob Infatti vedete Si mette così Lui invece Si mette così Vedete E Lizalfos Si invece Si mette così Lo sapete Che fanno Quei movimenti Con la testa Però è bello Come si mette Il Linel Wow Non è per niente male Comunque Ho compiato Ho compiato Bravissimo Ho comprato Anche le briche E la Vabbè La sella Da mostro Voglio fare Un attimo Una cosa Prendo un cavallo Vorrei vedere Una cosa Se io Dovessi fare Prendo Epona Andiamo Mettiamo un caso Prendo io Epona Vabbè Lì Al massimo Va bene Ok Scusa Se ti ho fatto Atten Va bene Allora Voglio vedere Come mettere Le briche Da mostro Allora Come dovrei fare Salgo Su Epona Dovrei Briche fatte A mano Da Kilton Da Kilton E quanto pare Immaginando Di usarle Su un cavallo Mostruoso Includono Un cappuccio Immaginando Di usarle Su un cavallo Mostruoso Includono Un cappuccio Che copia Completamente Del muso Del muso Del cavallo Si ma Come Le devo equipaggiare Allora Ragazzi Vorrei Cambiare Le briche Al cavallo Quindi Un attimo Solo Prendo un cavallo Praticamente Vi dico Subito Non in tutti i punti C'è Questa tipa Che Vi cambia Le briche E vi modifica Il cavallo Io ora Mi sono Presepona Ok Ok Vabbè Blablabla A parte Scherzi Basta Adesso Con questa Armatura Dell'Hinel Mettiamoci Noi Ok Ah io prendo Epona Deve esserci Buon tempo Ok Quindi adesso Galoppo Per di qua E Salve Vi andate Per tutto Non so Slagio Prendi un po' Di tempo Per riposare Ma Questa tipa Si trova In molti Punti Della Mappa Però Non sempre Io vi consiglio Di andare qui Oh ma Che bel cavallo Vuoi che Gli sistemi I finimenti E la criniera Si grazie E mi interessano Solo cavalli A destrati Con tanto affetto Il tuo come è messo Da questo punto di vista Ma che occhi Vi spiega Si capisce subito Che ti adora E va bene Cambierò volentieri I suoi finimenti Allora Che cosa vorresti Cambiare La criniera Facciamo la criniera Possiamo modificare Questa Questa Criniera lunga Così sembra Buona ragazzi Comunque la criniera Alla Moicana Criniera Intrecciata Ok Bella Ci potrebbe stare Così per la nostra Anzi no Guardate che bello Criniera Floreale Con i fiori Bellissima E buona Criniera Con treccine Ok Criniera verde Criniera Turchese Criniera Rossa Criniera Violetta Allora ragazzi Io opterei Per la nostra Bellissima E buona Con i fiorellini Che ne dici Ti piace Per cambiare Qualcos'altro Le briglie Allora Adesso Possiamo Mettere Le briglie Del Consorzio Che quelle classiche Le briglie Reali Ma io Voglio mettere Oh no Mettendo le briglie Da mostro Copre tutto Mmm Non va bene Non va bene Non va bene Allora Va bene Alla nostra E buona La sistemiamo Così Ok Cioè Gli metto Anche a lei Quelle briglie Reali Però Come se La Voglio Mettere Questa Va bene Vabbè Per la nostra Bellissima E buona Va bene Va bene Adesso però Voglio Cambiare Cavallo E Basta Basta Così Ma che bellezza Torna da me Ogni volta Che vuoi Cambiare Finimenti Il tuo Cavallo Allora Benissimo Però io adesso Voglio un attimo Vediamo se posso Anche farlo Voglio prendermi Nonag Prendo un cavallo Allora Voglio Fammi prendere Nonag Molto bene Lo prendo subito Ok ragazzi Ho preso Nonag Quindi Prendiamolo Guardate che bel Cavallo Grande che abbiamo Allora Nonag Vai un attimo Qui Salve Ma che bel Cavallo Vuoi che I Finimenti Ho Certo che È proprio Grosso Purtroppo Non ho L'eco Il livellamento Adatto A un cavallo Così Grande E penso Che Nonami Farsi Toccare La Finiera Mi Spiace Quindi Nonag Non può Ah Non lo sapevo Non lo sapevo Va bene Cioè Nonag Avrei messo Volentieri Avrei messo Volentieri Quelle Quelle Briglie Va bene Allora Proveremo Su Max Pazienza Va bene Ragazzi Ve lo faccio Solo vedere Allora Mettiamo Andiamo da questa parte Molto bene Parliamo Allora Con Max Invece Lo fa fare Esatto Vediamo un po' Come lo possiamo Sistemare Dovrò fare Un bel po' Di tagli Allora Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Controllalo Va bene Allora Non so Io volevo Proprio un cavallo Che avesse Le Cosa Ha detto Salvevi andando È venuto al nostro installaggio Quindi Ma Cosa Cosa Che ha detto Perché non me lo pagano Ops Ma che bel cavallo Vuoi che i sistemi Finimenti Sì grazie Mi interessa Solo cavalli addessati Con tanto affetto Il tuo come adesso A questo punto di vista Ok È come temevo Che bei occhi Che hanno Questo cavalluccio Però vado Vedo che Non si fida ancora Pienamente di te Mostro gli un po' Di affetto Allora Ho capito Cosa devo fare In pratica Devo farlo arrivare Al livello massimo Di Che mi voglia bene Ecco Ehm Mannecce E va bene Va bene Lo farò Lo farò Off camera Però A max Non gli sta Per niente La briglia Da mostro Quindi Ragazzuoli Prenderò Un cavallo Off camera E poi Nel prossimo episodio In caso Vi faccio Vedere Meglio Un nuovo cavallo Con le briglie Da mostro Perché Sì Quelle briglie Gliele voglio Fare A un cavallo Comunque Va bene Nel frattempo Me ne approfitto Per portare Max Al massimo E va bene Ragazzuoli Spero che il video Vi sia piaciuto È stato simile A quando lasciate Un bel pollicione All'inizio Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Al canale Il punto Dove trovate La tipa È proprio Questo qui Vedete Stalaggio Di sud A cala Vedete Ok Stavo dimenticando Di dirvelo E niente Ragazzi Noi ci becchiamo Un prossimo video Qui da vostro Romano di quartiere Come al solito È tutto Credo che Max Adesso Sia stato Portato Al massimo Finalmente Bella